Bene, ringraziamo la Presidente Casellati per questo incontro, questa opportunità che per noi è stato ovviamente un segnale di disponibilità importante, ringraziamo la Presidente Casellati per la scelta di convocare per domani mattina la riunione di capigruppo con all'ordine del giorno la richiesta di comunicazione informativa rispetto alle vicende di cronaca di questi giorni che riguardano quello che sapete. Domani mattina ovviamente il capogruppo Marcucci ribadirà la nostra richiesta come Partito Democratico di avere una sessione del Senato per una comunicazione del Governo relativa a quanto è avvenuto e a quanto dopo nei giorni successivi alla pubblicazione di notizie è avvenuto all'interno del Governo. Quello che ci spinge è esclusivamente una volontà, primo di fare piena chiarezza su quanto è avvenuto e in secondo luogo quello di mettere le istituzioni della Repubblica, il Senato e la Camera nella piena condizione di conoscere l'orientamento del Governo su fatti che giudichiamo gravissimi per la credibilità dell'Italia, la sua collocazione internazionale e le scelte politiche che sono in corso in questo momento. Dico anche che noi ci auguriamo che tutto venga fatto in fretta perché vorremmo tornare a parlare di lavoro, di crescita, di sviluppo, di scuola, di università e di come questo Paese si prepara ad affrontare le sfide del futuro e vorremmo parlare molto di meno dei problemi interni di una maggioranza, di scandali e di tutto quello che stiamo conoscendo. Quindi ci siamo permessi anche di sollecitare alla Presidente che non solo ci sia una convocazione ma ci sia nel tempo più breve possibile in modo di aprire una nuova fase anche su questi temi.